E' ufficiale il dottore Enrico Lanaro, candidato alle primarie del PD del 6 marzo. Non del PD, della coalizione di centro-sinistra. Il PD è una delle forze politiche in campo. Quindi è ufficiale, oggi c'è la divulgazione della notizia. Enrico Lanaro farà parte delle cinque forze che esprimeranno la loro presenza per rappresentare il leader della coalizione. Voi avete un vostro simbolo, avete anche delle altre liste collegate? Allo stato attuale abbiamo tre liste collegate che nascono da un movimento, che abbiamo diviso in tre liste per via dei candidati e altri simboli e un partito che ha aderito al nostro movimento. I tre punti cardine per il rilancio di Battipaglia? Sicuramente è il manufatturiero. La riqualificazione del piano urbano, ma il punto cardine principale è creare società. Amor proprio, amore del territorio, coesione sociale. Il nostro movimento si basa soprattutto su questo. Coesione sociale e creare partecipazione attiva.